Salve tubers, qui è il vostro Ravnot2KeyParla e oggi sono qui con una parlata generale Cosa vuol dire? Questo è un let's talk about Let apostrofo s talk about Vedete? Vedete? Let's talk about Cosa è un let's talk about? Un let's talk about, ogni volta più lo dico più diventa meno sensato Un LTA O meglio, let's talk about Non è altro che un video in cui mi distaccherò Molto probabilmente dall'ambito normale del gioco E mi rivolgerò per lo più a O il canale Oppure a Che so Cose che riguardano tutto in generale Ad esempio Questo let's talk about Sarà puntato per lo più su vlog Cos'è un vlog? Il vlog non è altro che una ripresa di se stessi Che si fa su youtube Ad esempio Prendete gente come Più dai pai Il suo primo vlog l'avrà fatto a un migliaio di iscritti E così un po' tutti Io il mio vlog lo farò a 500 iscritti E siamo ancora a 184 C'è tutto il tempo per prepararsi Credo che lo farò con una maschera di cavallo e nudo Sto scherzando Non avrò nessuna maschera di cavallo Dicevamo Questi vlog Si fanno Come dire Per attirare E molte persone si imbarazzano E non li fanno Quello che vorrei dirvi E che i vlog servono A meno che non vogliate fare la fine di capobastone Non ho niente da dire contro capobastone Però ancora non si è fatto vedere Cioè io posso tranquillamente pensare Che è un bambino di 15 anni E io ho 14-15 anni Cioè mi sto dando del bambino da solo Pensate Cioè Come dire Come dire Potrei benissimo dire che capobastone Sia ancora un neonato Che sa usare loquendo Forse così è abbastanza insensato Sì Decisamente Ricordo Che potete commentare in questo Let's talk about Scrivendomi Qualsiasi cosa voi vogliate Anche Zucchinami Reb Che ne so In caso voi abbiate bisogno di aiuto Oppure volete solo qualcuno con cui parlare Aggiungetemi a Skype A D Reb Cosa altro Cosa altro Cosa altro C'è sempre qualcosa che mi ricordo Ah si Vi ricordo di visitare il canale di ShedonArt Perché? Perché ha avuto la partnership Guardate Quanto è figa la partnership Hai anche La pubblicità Lampadine a led in saldo Dobbiamo vedere come sono queste lampadine a led in saldo Non mi interessa se non fa parte Dobbiamo Vederle Oh Questo sembra un pezzo della doccia Stiamo sicuri che non sia un pezzo della doccia veramente Vediamo Luci per notte Luci per notte Oh mio dio Quanto sono fighe 2 euro e un 2 euro e undici Una candela Wow Una lampada a forma di uovo Wow Una trappola per topi che si illumina Che cazzo è? Piccola torcia led Ok Dove Me lo sarei dovuto aspettare Questa è una lampada per la notte Tu dormi Ti ritrovi questa cosa in camera Tutto luminescente Viola No Un libro che fa da lampada Una lampada che fa da lampadina Illumina Un pallone lampada Un pallone lampada La luna La luna costa solo 27 euro e 59 Compra anche tu il tuo satellite Un CTRL luminoso Andiamo a pagina 4 Vediamo se c'è qualcosa altro di stupido Mi sembra che un po' tutto sia stupido Qua sopra No Sarà un'impressione Vediamo I più venduti Vediamo Cosa la gente cerca Ok Prima cosa Led blu Super luminoso Per pneumatico Ecco Questi sono i tamari Che vanno in giro Tipo con Che ne so Le canzoni di Bellogu Quali sono le canzoni di Bellogu Non ricordo Faffanghiulo Mi faccio una sega Quella roba là Eh Loro si mettono là Le macchie ribalze Loro si mettono E tutto quanto Poi vediamo Questa è una figata assurda La doccia è luminosa Cioè posso far illuminare l'acqua Che variata Anche se mi sembra un po' una stronzata Cioè Non una stronzata Impossibile Vediamo Risparmi 3,59 Spedizione gratuita Gratis Spedizione Esperso Su ordini superiore A euro 46 E' una fregatura Ma perché stiamo parlando di docce Non ne ho la più pari di idea Dicevamo Se volete qualche gameplay O roba del genere Basta che Mi contattate Questo è un video Completamente casual Mi stavo scocciando E perciò L'abbiamo fatto Nel prossimo Let's talk about Riguarderà Non so se dirvelo Ma diciamolo Riguarderà la popolità La popolarità O meglio La popolarità Ai tempi di facebook Come si fa a capire Se si è popolari Oppure Se si è un'emerita Testa di cazzo Si Un'emerita Testa Di Cazzo Perché Per i tempi di facebook Adesso Se non sei popolare Sei un Finite voi la frase Metto anche Ilyrix Aspettate Perfetto Emerita Testa Di cazzo Perfetto Mi scuso per le parolacce Almeno non ho bestemmiato Credo Poi controllerò Se avrò bestemmiato Coprirò con un bip Anche per questo video È tutto Vi ricordo di visitare La B series Ovvero Le mods di minecraft Che iniziano solo con B Anche se le devo ancora caricare Voi state davanti al combito E finché lo vedete Che esce un video chiamato Antitlet Si i miei video si chiamano Antitlet Andrò a piangere dopo In un angolo E Ciao ragazzi